segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te luca iosi 30 anni fa eravamo davanti all'hotel raffael queste immagini tutti ce le ricordiamo a roma eravamo e abbiamo visto questa folla inferocita che lanciava monetine contro craxi c'erano presenti l'autista guardia del corpo del leader socialista il si il fotografo umberto ciccone e tu luca iosi che eri il giovane dirigente giovane leader dei giovani socialisti tu oggi scrivi un lungo intervento sul settimanale oggi dal titolo la sciagurata sera del raffael e vorrei che tu ci raccontassi perché era sciagurata quella sera che cosa ti ricordi tu e che cosa dovremmo ricordarci tutti noi la sciagurata sera del raffael è un ottimo titolo del direttore carlo verdelli sono complimentato perché una sintesi eccellente mi ricordo mi fa sorridere e ho tenuto nota in questi 30 anni di tutti quelli che raccontano di essere stati lì quella sera perché ormai a sommarli non basterebbe piazza tiene a menne servirebbe poco uno spazio un poco più largo che di wulstock e in realtà quello è un luogo molto stretto che per chi fa televisione sa che sono i luoghi migliori per fare apparire folle piccole folle molto grandi però c'era tanta cattiveria oggettivamente c'era tanta violenza nell'aria che fortunatamente è rimasta nell'aria e il ma tu cosa hai pensato perché se devi dietro nella macchina io ero furibondo per non essere riuscito a organizzare una una risposta a quello che stava accadendo in quelle ore perché per carattere se abbasso la testa pur nel mio spirito cristiano e più per rispondere dopo aver consegnato la seconda guancia non ne ho una terza e cerco di reagire e perché prevedevo che l'immagine che ne sarebbe uscita ma come facevi scusa ti interrompo a organizzare una reazione perché l'opinione pubblica la stragrande maggioranza stava con chi lanciava le monetine quella sera no ma allora sul io non ero così convinto no non ero no no dici di no no i climi sono sempre prodotti da minoranze che si eccitano quello che era successo quella sera è che accanto a noi in piazza navona si era tenuto una manifestazione del pds e si era fatto in qualche modo fluire il pubblico verso largo febbo non in maniera spontanea ma spintanea e poi ci si trovarono lì mondi di sinistra mondi di destra mondi di tutto specializzati ma non ci stavano nemmeno c'è bastava uno per categoria come spazio bastava uno sì perché le in effetti largo febbo a roma quindi davanti allo terra raffaele è uno spazio largo febbo ma è stretto è molto stretto è molto stretto italo bocchino allora grazie a tutti